Corigliano d'Otranto è uno dei dodici comuni della Grecia Salentina ed uno dei nove tra quelli che ancora conservano il suo affascinante antico dialetto, il grico. Lo sviluppo urbano, sociale e culturale del piccolo borgo salentino è legato ad origini romane ma fu anche influenzato dalla cultura bizantina dei monaci greci. Infatti l'origine del nome ellenico Corion si riferisce all'esistenza di un antico villaggio bizantino nel periodo medievale. Vi è anche un'altra interpretazione secondo cui il nome Corigliano deriverebbe dalla parola a cuore, simbolo peraltro presente nello stemma cittadino. Il centro storico di Corigliano d'Otranto è un mosaico di viuzze suggestive che dal castello si diramano per tutto il borgo antico conservando i tratti caratteristici del proprio passato impreziosito dalle tipiche e particolari case accorte. In un contesto di armoniosa integrazione architettonica la maestosità e la fantasia dei portoni dei palazzi gentilizi fanno da sfondo alla semplicità delle antiche case contadine del centro storico rendendo Corigliano d'Otranto un borgo autentico.